ecco la mia manzana Sussolanum che è ancora veloce alla grande a dare quanto so belle ci sono anche i nuovi i nuovi cuccioli nonostante cominci a fare freschetto a Roma non c'ha paura queste sono veramente buone sia pronte da raccogliere che in crescita veramente una soddisfazione questa pianta perché è piantata in terra e per cui quando sono piantata in terra rendono meglio però guardate quanto è bello un alberello delle melanzane a due passi da casa